Eutanasia anche ai bambini. In Belgio cade anche l'ultimo tabù. Giovedì il Parlamento belga voterà una legge che estende anche ai minori il diritto di morire. Una legge contro cui a Bruxelles si sono mobilitate centinaia di persone cattolici e non. Chiedono maggiori controlli sulle attuali norme che consentono l'eutanasia per gli adulti e non vogliono una nuova legislazione per i minori. Solo un paese al mondo ha legalizzato l'eutanasia per i bambini, sono i Paesi Bassi. Se ci sono stati 5 o 6 casi in 10 anni non c'è nessuna necessità, è un'iniziativa ideologica. Ci sono oggi altri mezzi per permettere ad un bambino molto malato di andarsene dolcemente senza applicare una procedura letale che mi sembra barbara per la nostra civiltà. A differenza dei Paesi Bassi il Belgio non ha posto limiti di età ma i bambini dovranno essere consapevoli del gesto. La legge parla di casi estremi, di malati terminali con gravi sofferenze. È previsto l'accompagnamento di psicologi e pediatri. Le cure palliative non sono controllate, si può aumentare la dose progressivamente, tanto da arrivare alla morte con una dose letale. Ma questo non è controllato. In prima fila ci sono comunque i genitori. Marieke ha perso il figlio Benjamin a 7 anni per un cancro al fegato. Inutile anche il trapianto. Se ci fosse stata la legge e il suo figlio glielo avesse chiesto, Marieke non avrebbe avuto dubbi. Uno dei timori maggiori quando si parla di eutanasia per gli adulti è che ci siano altre ragioni dietro alla scelta di far morire un adulto, questione di eredità ad esempio. Ma quando si tratta di un bambino l'unica cosa che si vuole è che smetta di soffrire. Socialisti, liberali e verdi, ma anche i nazionalisti fiamminghi voteranno a favore della legge che dovrebbe entrare in vigore nelle prossime settimane.